Una nuova evangelizzazione per Rapallo e Zoagli inizia con questo desiderio la visita pastorale del Vescovo alle 13 parrocchie dell'Ambito, due settimane di incontri e appuntamenti. I piccoli sì che generano le grandi scelte, i giovani della Diocesi hanno incontrato il Gesuita Padre Matteo Suffritti a tema alla concretezza della parola di Dio nel quotidiano. Le radici bibliche del legame profondo fra ebraismo e cristianesimo al centro della seconda giornata per il dialogo cristiano-ebraico in Diocesi, a Lavagna, il commento e la lettura del Cantico dei Cantici. Credenti, ovvero missionari, nel libro Senza di Lui non possiamo fare nulla presentato a Rapallo il cuore del Magistero del Papa, la fede si comunica per attrazione. La figura di Sant'Agnese, l'importanza del sentirsi amati, è al centro della riflessione del Vescovo che ha celebrato la Messa alle Due Palme a Sestri e Levante, un incontro che arriva poche settimane dopo la visita pastorale. Mercoledì a Genova in Cattedrale a San Lorenzo l'incontro su Aldo Gastaldi, il partigiano Bisagno, fondatore della divisione Cicchero. Lo ricorderanno il nipote omonimo e il regista del documentario a lui dedicato, Marco Gandolfo. Ricorre il centenario della nascita a Trento di Chiara Lubic, fondatrice del Movimento dei Focolari. Il suo pensiero e la sua azione per l'unità hanno lasciato un'eredità diffusa in tutto il mondo. Benvenuti a Lui Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari. Con la Santa Messa, che avrà inizio sabato mattina alle 10.30 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, sarà inaugurata ufficialmente la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle comunità dell'ambito di Rapallo e di Zoagli. La Santa Messa sarà ovviamente preseduta dal Vescovo e concelebrata dai sacerdoti e dai religiosi della città. Seguiranno poi due settimane dense di incontri e di appuntamenti. Vediamo. Inizia la visita pastorale di ambito per le parrocchie di Rapallo e di Zoagli. Diversi gli appuntamenti sia per le singole comunità che per tutto l'ambito pastorale. Come vi trova questa visita? Qual è il valore e l'importanza di questo momento che state per vivere? Il valore è la visita del Vescovo, che è la visita di un padre, che viene a confermare, a sostenere, ad aiutare, correggere il cammino che in questi anni si è svolto, questi ultimi anni, da quando ha fatto l'ultima visita pastorale qui a Rapallo, quindi dal 2008, circa dieci anni, che in questi dieci anni si è svolto a Rapallo e a Zoagli. Quante sono le comunità che fanno parte di questo ambito pastorale? Ci sono le parrocchie, le comunità parrocchiali di Zoagli, le quattro comunità di Zoagli. Poi ci sono tutte le parrocchie di Rapallo, sono le tre parrocchie più grosse, cioè San Giovaso e Plotasio, Sant'Anna e Santa Maria del Campo, più le parrocchie delle frazioni di Rapallo, come San Pietro, Sant'Andrea, San Massimo, San Morizio, San Quirico e Montepegli. San Michele in realtà la visita l'ha fatto già insieme con Santa Margherita Rigore. Come avete avviato il cammino di ambito in quest'ultimo periodo? È da un anno che è nato il Consiglio Pastorale d'Ambito, che è diventato pian piano un punto di condivisione, di confronto, di verifica e di cammino insieme. Questo per quanto riguarda la città di Rapallo. Per quanto riguarda invece la città di Zoagli, c'è stato in questi anni qualcosa di analogo, c'è dei punti di incontro, di condivisione che raccoglievano un po' tutte le parrocchie del comune. Al di là delle strutture o delle iniziative, comunque la condivisione e la collaborazione fra parrocchie è ormai una realtà assodata in questo ambito? Sì, sì, sì. Anche se direi che si è fatto un grande cammino in questi anni. Io credo che la domanda grande su cui dobbiamo lavorare è il rapporto con la città. Il Rapallo è una città ricca di tradizione. La presenza del santuario di Montellegro è un punto di riferimento per tutte le comunità e per tutte le persone, anche quelle che non sono coinvolte pienamente nella vita delle varie comunità. Però, come dire, anche qui si sente come il bisogno di ritornare all'essenziale e di prendere in mano, come dire, quello di cercare di riscoprire il nostro compito di essere missionari nella città in cui abitiamo. Quindi il compito di abitare la città, di incontrare la gente, di incontrare le persone, di incontrare le varie realtà, perché anche Rapallo non è diventata una città, diciamo, plurale, con tante sfaccettature, con tante realtà. Quindi il desiderio, l'urgenza, e penso che la visita del Vescovo possa aiutarci proprio in questo, oltre che a riscoprire il valore di camminare insieme, riscoprire il valore di una nuova evangelizzazione. Se si può dire così anche per una città come Rapallo, che ha una forte tradizione cattolica. Vediamo allora quali saranno i primi appuntamenti della visita pastorale alle comunità dell'ambito di Rapallo e di Zoagli. Sabato mattina, come detto, alle 10.30, la Santa Messa nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Sabato pomeriggio Monsignor Alberto Tanasini incontrerà i bambini e i catechisti che ogni sabato appunto si ritrovano per il loro appuntamento settimanale. Alle 16.00, Monsignor Alberto Tanasini inaugurerà i lavori che hanno interessato alcuni locali della Casa della Gioventù. Siamo sempre nella parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Nella Basilica centrale di Rapallo, sempre sabato pomeriggio a partire dalle 18.00, il Vescovo presiderà la Santa Messa. Domenica mattina alle 11.00, la Santa Messa del Vescovo sarà nella chiesa di Sant'Anna, sempre a Rapallo. Sarà l'occasione per celebrare la liturgia della Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco. La Santa Messa sarà preceduta da un tempo in cui il Vescovo potrà incontrare personalmente i fedeli che desidereranno parlargli. Ci sono piccoli sì che possono condurre a scelte importanti, anche se apparentemente il cammino sembra lungo. Occorre sempre non scoraggiarsi e fare affidamento sulle persone che abbiamo intorno e che sembrano affidabili. E' questo uno dei molti messaggi che padre Matteo Suffritti, gesuita di origine bolognese, ha voluto lasciare ai giovani della Diocesi di Chiavari, che ha incontrato recentemente nel seminario Vescovile, in un incontro organizzato dalla pastorale giovanile della nostra Diocesi. Dio non si stanca di passare perché è un amico e gli amici non si stanca di fussare la porta. Qual è un pochino la chiave che ci fa andare nella direzione della parola del Signore per i giovani soprattutto? Questa sera ci ritroviamo insieme per riflettere insieme su qual è il modo con il quale possiamo leggere la scrittura e leggere la scrittura forse è alla luce del fuoco della croce, del fuoco dell'incontro col Signore. Questa sera ci incontriamo con questi ragazzi per fare esperienza che la misericordia del Signore entra in tutti i luoghi e in modo discreto e potente visita, riscalda. Speriamo di poterci riscaldare oltre che con una buona cena anche alla luce della parola di Dio e ci facciamo anche aiutare dall'arte, ci facciamo aiutare da Caravaggio, un quadro che piace a Papa Francesco, che piace a tanti cristiani, la vocazione di Matteo. I giovani sono sensibili a questi temi? Io credo che tutti noi, a prescindere dall'età, abbiamo desiderio di incontrare il mistero di Dio e allora le mediazioni possono essere molto diverse, ma forse la comunità, forse il stare insieme, stare a tavola insieme è qualcosa che Dio non disdegna e noi proviamo a metterci in questa linea. E' quel passaggio dall'incontro alla riunione che viene fatta, vengono fatte nelle nostre parrocchie, anche al Vero Dio Cesano, e poi alla quotidianità? Che bello che i nostri incontri non siano troppo teorici, ma appunto quando possibile ci diano alcuni strumenti per rileggere meglio la nostra vita, ma sono subito concreti, è concreta questa cena, è concreto il nostro affetto, non è una finta, non sono degli incontri teorici e poi dopo andiamo a fare la carità, noi ci facciamo la carità a vicenda perché ci vogliamo bene, cresciamo nell'amore ed è un amore generoso che forse esce nella vita quotidiana, nel nostro studio, preso sul serio, nel nostro lavoro, preso per quanto possibile sul serio, sapendo dire forse dei sì e dei no, illuminati dalla luce della Pasqua. Invece l'esperienza personale di padre Matteo, quando è nato questa scintilla di impegno? Ma io sono contento di aver avuto l'esperienza degli scout, dello scoutismo, nella Gesci a Bologna che mi ha accompagnato nel vedere com'è bello essere fratello, a volte anche fratello maggiore in tutto, anche nelle cose serie e nelle cose più piccole. Il Vangelo, il Signore, era presente in questo ed è stato un apprentissage sul campo, come un creto e da lì forse, rileggendo la parola di Dio insieme con gli altri capi, è nata l'idea che forse la mia familiarità col Signore poteva diventare qualcosa di diverso da una famiglia tradizionale e poi l'incontro con i Gesuiti mi ha rilanciato in modi e in forme che non avrei mai pensato nella Chiesa di Benedetto, entrai in compagnia a Genova nel 2007 e mai mi sarei aspettato che appunto anche questa piccola, minima compagna di Gesù potesse ancora oggi essere un luogo, un rilancio per la Chiesa Universale. C'è un momento Matteo che il sì a Gesù è stato più forte e più definitivo, che ti ricordi? Beh, forse bisogna essere discreti su queste cose ma tutti noi nelle nostre vite attraversiamo dei momenti di dubbio e il dubbio, diceva la Cardinal Martini, fa parte dell'esperienza della fede, fa parte del cammino vero e allora appunto forse quando davanti a un dubbio serio, davanti ad un affetto serio o davanti ad uno scandalo serio beh, quando il sì è possibile pronunciarlo, prima forse a stento, poi con decisione, forse proprio illuminato dal Signore e poi lo vedremo tra qualche anno, lo vedremo tra un po', chissà, speriamo di aver imbroccato le scelte giuste ma forse i sì che escono dai dubbi, provati, sì provati, e ce ne sono stati e ce ne saranno appunto sono i luoghi nei quali il Signore conferma A un giovane che magari ha difficoltà a tentare di dire qualche sì ma un sì ad esempio a una semplice riunione come questa sera c'è un consiglio, c'è qualcosa che si può dire? Ascolta il tuo cuore nella sua verità Sant'Ignazio scopre inchiodato, bloccato a letto da una granata rileggendo i suoi sentimenti da una situazione di grande sofferenza fisica riscopre, rilegge quali sono i sì che ha detto e che non erano sensati e forse i sì che possono essere detti si inizia anche a partire da molto basso, da molto giù però appunto nel tuo letto non avere paura di ascoltare il tuo cuore e di pesare il peso specifico di quello che tu provi, di quello che tu senti e forse a volte di parlarne con un amico con qualcuno che vedi un po' capace di orientare, di rileggere insieme la vita non avere paura di parlare di ciò che senti e la comunità cristiana è un luogo nel quale i nostri sentimenti possono essere rilanciati e possiamo dirci forse che il nostro cuore ogni tanto brucia e possiamo fare delle scelte coraggiose, possiamo dire dei sì e questa esperienza è un'esperienza che fanno forse anche i ragazzi di questa sera che si sono forse aiutati l'un l'altro a dirsi ma andiamo e vediamo ma chi si affrega di questa sera l'importante è giocarsi la vita e allora piccole scelte, piccoli sì forse ci aiutano a dire dei grandi sì La bellezza e la profondità del Cantico dei Cantici sono state al centro della seconda giornata per il dialogo cristiano-ebraico ospitata in diocesi un'iniziativa che in realtà è giunta alla sua 31esima edizione a livello nazionale Nella salone della chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa Lavagna si sono confrontati e hanno illustrato i contenuti di questo testo sacro Elena Lea Bartolini De Angeli, docente di giudaismo e il pastore Martini Barra, pastore delle chiese evangeliche battiste di Chiavari e di Rapallo La registrazione integrale andrà in onda domenica sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 Vediamo Con il canto dello Shema Israel, forse la preghiera ebraica più conosciuta ha avuto inizio a Lavagna la seconda giornata per il dialogo cristiano-ebraico ospitata in diocesi Giunta alla 31esima edizione dalla sua istituzione l'iniziativa, nata per approfondire e sviluppare il dialogo fra cristiani ed ebrei è stata organizzata per la prima volta lo scorso anno anche nella diocesi di Chiavari Viene proposta il 17 gennaio significativamente alla vigilia della settimana ecumenica a sottolineare come l'ebraismo rappresenta una radice per ogni confessione cristiana Quest'anno al centro della serata c'è stato il Cantico dei Cantici commentato da Martini Barra, pastore delle chiese evangeliche di Chiavari e Rapallo ed Elena Nea Bartolini De Angeli di origine ebraica da parte materna docente di giudaismo ed ermeneutica ebraica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e all'Università Cattolica dove dirige la sezione ebraica del nuovo master su fonti e istituzioni dei tre monoteismi La presentazione è stata seguita dalla lettura di alcuni brani del Cantico dei Cantici che ha permesso di gustarne la bellezza La serata è stata l'occasione per presentare alcuni aspetti del viaggio interreligioso a Gerusalemme che l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi sta organizzando a cavallo fra luglio e agosto Scopriremo sia le bellezze di questa terra sia il rapporto che ebrei, cristiani e musulmani hanno con i luoghi santi scoprendo le diverse sfumature del rapporto di santità Cercheremo poi di metterci in ascolto anche di coloro che vivono su questa terra da parte di tutte e tre le tradizioni religiose ascoltando le storie e le testimonianze di coloro che qui vivono e cercano di costruire la pace in un contesto storico politico non facile Il programma è soprattutto centrato su Gerusalemme ma vedrà anche un momento a Betlemme e poi faremo una visita anche al villaggio di Neve Shalom la cittadina dove esiste una scuola di educazione alla pace ormai da molti decenni e andremo anche al centro Peres per la pace quindi sarà un viaggio proprio all'insegna del dialogo e dell'accoglienza reciproca L'essere missionari non è solo una questione per addette ai lavori ma è qualcosa di connaturato all'esistenza stessa della Chiesa è quanto emerge nel libro intervista scritto con Papa Francesco dal giornalista dell'agenzia Fides Gianni Valente un libro che è scaturito dall'esperienza della celebrazione del mese missionario straordinario indetto dal Papa per tutta la Chiesa Il libro è stato presentato all'oratorio di San Pietro di Novella a Rapallo la registrazione integrale dell'incontro andrà in onda su Telepace 1 al canale 15 sabato sera a partire dalle 21.10 ora vi mostriamo l'intervista al relatore Un libro che per Papa Francesco è più di un libro è un documento lo abbiamo capito quando lo ha consegnato alla Curia Romana durante il tradizionale scambio degli auguri natalizi perché per il Papa lo slancio missionario è così importante? Lo slancio missionario è importante perché in qualche modo attinge al cuore stesso della dinamica che fa vivere tutta la Chiesa la missione è un paradigma in qualche modo per tutta la vita della Chiesa la vita della Chiesa non vive per se stessa vive per comunicare qualcosa di altro da sé quindi in qualche modo ogni gesto della Chiesa anche le attività più semplici hanno una dimensione di missionaria, di annuncio e Papa Francesco ha voluto chiaramente fare questa intervista nel contesto del mese missionario straordinario che c'è stato a ottobre per segnalare come la cosa importante è sapere qual è la cogliere, percepire, fare esperienza di qual è la sorgente di questo dinamismo di questo impoto che non è uno sforzo che fa base, che si basa sulle proprie energie ma è in qualche modo un effetto dell'attrazione che Cristo stesso opera nei cuori delle persone e da lì poi possono in qualche modo svilupparsi tutta una serie di dinamiche che rendono la missione sempre il termine di una gratitudine piuttosto appunto che il tentativo di voler costruire la Chiesa con le proprie forze come se fosse possibile costruire la comunità costruire, far nascere nuovi cristiani solamente con un'operazione di propaganda Nella confusione che regna nella Chiesa oggi tanti cristiani anche semplici fedeli di parrocchie non sanno dove guardare questo volume può essere considerato come un punto fermo? Sì perché secondo me proprio il tratto significativo di questo libro è proprio questa nella sua elementarità questo suo riportare e riindicare quali sono le dinamiche di attrazione appunto della vita di fede, della vita della Chiesa e questo secondo me però è un tratto che connota un po' tutto il Magistero di Papa Francesco nella, chiaramente nel solco della tradizione tant'è vero che la frase che lui spesso ripete quando dice che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione è una frase di Papa Benedetto XVI e poi è quello che la Chiesa ha sempre indicato durante tutta la storia il Magistero e anche i Santi pensiamo a Santa Teresa di Lisie che è molto cara anche a Papa Francesco per cui sicuramente anche questa sua la possibilità di riscoprire queste parole di sempre quello che la Chiesa ha sempre detto con un accento nuovo sicuramente può arricchire la vita di tutti non è un libro in qualche modo destinato agli addetti ai lavori non è solamente per i missionari non è solamente per le persone che sono impegnate in concreto nelle attività della dimensione apostolica della Chiesa forse siamo cresciuti pensando che la missione fosse qualcosa di conseguente alla fede quello che dice il Papa in questo momento è che la missione è connaturata all'esperienza stessa della fede sì perché appunto una volta che uno fa esperienza che la fede è un essere abbracciati e quindi un godere di qualcosa che appunto che attira e che rende contenti e quindi poi diventa questo chiaramente gratitudine e quindi in qualche modo poi diventa spontaneo anche in qualche modo testimoniare questo agli altri nel senso che la testimonianza è proprio il cambiamento che Cristo stesso opera nel cuore delle persone e gli altri se ne accorgono quindi non è tanto un problema di costruire chissà quali progetti quale strategie è qualcosa che si comunica come si comunica una vita cosa l'ha colpita a lei personalmente del Papa e delle preoccupazioni che porta nella Chiesa oggi io penso che ripeto la cosa che colpisce è questa sua attitudine questa sua continua attenzione alla in qualche modo a testimoniare a confessare la la cura di di Cristo per la felicità di ciascuno e questo in qualche modo secondo me è la vera sorgente anche di tutti i suoi gesti e delle sue parole che fa come vescovo di Roma e ripeto è questo suo in qualche modo indicare qualcosa al di là di se stesso questo è un po' secondo me la cifra di questi anni adesso per esempio tanti in qualche modo ci sono delle polemiche sulla sua persona che secondo me proprio in qualche modo sono fuorvianti proprio perché mettono da parte il fatto che Papa Francesco in ogni gesto che fa in ogni parola che dice non indica se stesso ma indica sempre appunto Gesù e la dinamica sacramentale apostolica della Chiesa Monsignor Alberto Tanasini è tornato a visitare gli anziani ospiti della residenza protetta le due palme di Sestri Levanto un incontro ormai tradizionale che tra l'altro questa volta è giunto a poche settimane dalla visita pastorale che ha interessato l'ambito del Sestrese ma è un appuntamento sempre molto atteso dagli ospiti della struttura che hanno accolto anche questa volta al Vescovo con grande affetto Punto di riferimento per la gioventù cattolica di qualche decennio fa Sant'Agnese resta con il suo esempio di santità una figura che merita di essere ricordata imprigionata perché Cristiana venne decapitata a soli 12 anni fu disposta a dare la propria vita per non perdere la fede e questo è il suo insegnamento più prezioso come dice il Vangelo ci dice quanto vale il regno di Dio quanto vale appartenere al Signore quanto vale la nostra vita di Cristiana vale tanto quanto la nostra vita sia lunga che breve vale la spesa vivere vivere come figli di Dio è quanto ha ricordato il Vescovo celebrando l'Eucarestia nella residenza protetta alle due palme di Sestri Levante nell'Omelia il pastore della Diocesi ha sottolineato poi un aspetto dalla liturgia del giorno il passaggio della lettera ai Romani in cui Paolo scrive se Dio è con noi chi sarà contro di noi soprattutto nei momenti in cui ci sembra che la nostra vita valga poco ci rendiamo conto che invece vale vale l'amore di Dio vale il suo figlio questo amore nessuno ce lo potrà mai togliere gli anziani ospiti della residenza alle due palme che si trova nel cuore della città di Sestri Levante hanno avuto modo di incontrare il Vescovo solo poche settimane fa in occasione della visita pastorale quest'anno abbiamo voluto farla a gennaio inoltrato mantenere questo appuntamento perché tutti operatori ospiti parenti famiglie aspettano il nostro Vescovo con gratitudine e con anche molta voglia di incontrarlo e di vivere con lui in questo momento per gli anziani che stanno qui diciamo la parte comunque spirituale comunque di vita di fede è importante li aiuta? sì noi abbiamo la messa settimanale Don Luciano viene tutte le settimane a celebrare la messa nella nostra cappella e molto frequentata chiaramente con le persone che riescono ad avvicinarsi a questo momento mentre gli allettati le persone con più difficoltà fanno più fatica ma vengono visitati costantemente abbiamo le parrocchie che vengono con i ragazzi del catechismo cerchiamo di vivere anche questi aspetti nel mezzo della realtà cittadina in cui siamo collocati infortunatamente e tra queste cose c'è anche la parte spirituale ora parliamo di un ciclo di incontri cattedrale aperta che si svolge in realtà a Genova nella cattedrale di San Lorenzo appunto mercoledì prossimo ci sarà un nuovo appuntamento alle 20.30 nella cattedrale di San Lorenzo e si parlerà della figura di Aldo Gastaldi Bisagno che è stato definito il primo partigiano d'Italia e fu il fondatore della divisione partigiana Cicchiero il nipote omonimo Aldo Gastaldi dialogherà con le persone che vorranno partecipare assieme a Marco Gandolfo cameraman e regista di origine sestrese che alcuni anni fa ha realizzato il documentario Bisagno il film una occasione per andare più a fondo della figura di questo giovane per il quale è iniziata la causa di beatificazione nell'arcidiocesi di Genova la storia di Aldo Gastaldi il partigiano Bisagno comandante della divisione Cicchiero ricordato come il primo partigiano d'Italia è stata riscoperta negli ultimi anni anche se la memoria della sua esistenza non si è mai persa del tutto la sintesi di ciò che ha lasciato in chi lo ha conosciuto è stata espressa sinteticamente dal partigiano Dino Lunetti che al nipote omonimo Aldo Gastaldi disse è un uomo che ha amato tutti Dino Lunetti dice anche Aldo è stato un giusto una persona un giovane che ha saputo fare delle scelte nella vita delle scelte coraggiose non solo per le sue decisioni diciamo intese come nell'ambito resistenziale ma proprio fin dalla più tenera età delle scelte direi una scelta per Dio una scelta radicale per Dio in famiglia che ricordo custodite di Aldo Gastaldi Bisagno allora io ovviamente non ho conosciuto Aldo l'ho respirato in famiglia nei racconti di mio padre e dei suoi uomini io accompagnavo sempre papà le commemorazioni ai vari momenti di ricordo di questo periodo storico da ragazzino ricordo appunto questo esempio così alto col quale comunque uno si confrontava era spesso perdente però ecco davvero un ricordo di un giovane che ha lasciato una traccia nei cuori degli uomini che lo hanno conosciuto e che lo ricordavano uomini di qualche anno fa ultra novantenni che lo ricordavano come un padre qual è stata a suo avviso la scelta più coraggiosa che ha compiuto nella sua vita suo zio è una domanda difficile perché Aldo ha fatto tante scelte la scelta che lo ha contraddistinto e che poi ha contraddistinto tutto il suo agire è stata la scelta sicuramente la scelta per Dio da lì derivano tutte le sue scelte ed erano sempre delle scelte caratterizzate da una profonda umanità la cui radice era Cristo sono innumerevoli gli episodi legati ad una esistenza che ha fatto della fede la sorgente di ogni scelta senza indulgere in facili proselitismi e senza esternazioni uno lo ha riferito alla famiglia Don Carlo Ginocchio mi ha raccontato che un suo confratello il parroco di Belpiano lui allora Don Carlo era molto giovane gli ha raccontato che Aldo si era si era accordato con lui in tempo di guerra lui scendeva magari facendo ore di cammino nella neve nel cuore della notte bussava in un certo modo alla canonica per farsi riconoscere per ricevere l'eucarestia e poi ripartiva rischiando chiaramente anche la vita per questo e ritornava su dai suoi uomini che magari erano a riposare in un luogo di fortuna in un cascinale lui alla mattina andava alla santa messa la prima santa messa della giornata e si metteva in fondo alla chiesa sempre in piedi e ascoltava ecco una spiritualità che fin da bambino ha caratterizzato la sua esistenza senza particolari esternazioni oppure un altro aneddoto meraviglioso è quello che ci ha lasciato un suo partigiano passa un carro ferito erano nell'entroterra chiavarese passa un carro con delle persone morte tra cui anche si vedevano dei corpi di bambini c'è un suo uomo che si rivolge a lui con un tono abbastanza duro gli dice sapendolo credente e Bisagno come può il tuo Dio permettere questo dice con con fermezza ma anche con questa dolcezza lo ha guardato negli occhi e gli ha risposto il mio è un Dio degli uomini liberi ed è per questo che io credo e io credo che in questa frase già ci sia tantissimo dello spirito con cui lui ha comandato la divisione Cicchiero uno spirito di libertà fondato sulla verità il fratello di Aldo Gastaldi è mancato dieci anni fa nel 2009 lasciando un'enorme quantità di materiale documentale sulla vita di Bisagno dall'amicizia fra il nipote Marco Gandolfo cameraman e regista originario di Sestri Levante è nato il documentario che sarà presentato mercoledì a Genova pochi mesi dopo l'apertura ufficiale della causa di beatificazione questo è stato un piccolo miracolo eravamo proprio qui a Chiavari sulla passeggiata di Chiavari con Marco Gandolfo un mio compagno di studi dei tempi che stava lavorando in quel momento a Skaia a Milano siamo messi a parlare è nata l'idea di dire ma Marco come possiamo far fruttare questo tesoro di spiritualità di storia anche che abbiamo in famiglia e così è nata l'idea del documentario abbiamo iniziato a girare mezza Italia a cercare i sopravvissuti ancora e abbiamo incontrato gli occhi di chi aveva incrociato quello sguardo ed è stata una cosa meravigliosa veramente la portiamo nel cuore ogni volta che uscivamo da un'intervista ne uscivamo arricchiti uno sguardo che oggi si illumina ancora di più alla luce della causa di beatificazione che è stata aperta proprio su Aldo Gastaldi Besiani sì questo grazie a sua eminenza il nostro cardinale arcivesco Angelo Bagnasco questo patrimonio di spiritualità come ho già detto più volte non potevamo tenerlo per noi e tramite appunto l'espressione del cardinale che ha accolto la richiesta del postulatore la volontà di Dio si è manifestata e questo percorso vedremo noi chiaramente crediamo noi del comitato che sostiene la causa il comitato Aldo Gastaldi Bisagno crediamo che Aldo sia santo lo crediamo per come ha vissuto per come è morto per come lui ha saputo scrivere nei cuori io ricordo una frase che il Papa Emerito Benedetto XVI ha detto tanti anni fa che cosa rimarrà di tutto quello che abbiamo fatto un'eminenza gli stava chiedendo e lui ha risposto rimarrà tutto quello che abbiamo scritto nelle anime immortali che è una frase splendida e io credo che Aldo abbia scritto tanto nelle anime delle persone che hanno creciato quello sguardo quello sguardo che Elena Bono diceva essere dritto essere pulito puro uno sguardo che guardava a una bellezza molto più grande cosa penserebbe suo zio di questo percorso che voi avete in qualche modo avviato e sostenuto sorrido perché Dino Lunetti e tante altre persone che lo hanno conosciuto loro partigiani loro uomini ridendo ci hanno detto se Aldo avesse saputo che una sola lettera di quelle che ha scritto alla famiglia anche solo in parte in futuro sarebbe stata pubblicata non avrebbe scritto niente Aldo era una persona una personalità estremamente riservata schiva direi pudica in tutte le cose che faceva certo era molto fermo molto deciso e si è trovato grandi responsabilità a poco più di 20 anni ma questo non ha non ha intaccato quello che era il suo modo di essere un modo di essere semplice pulito spontaneo e che sono certo che lui non avrebbe mai pensato né forse voluto questo forse neanche voluto testimonia anche che in una situazione drammatica come quella della guerra che mette gli uni contro gli altri si possono mantenere saldi quei valori che ciascuno porta dentro di sé valori legati anche ad una fede fulgida come quella del bisogno sì per mantenere alti questi valori in momenti così difficili e soprattutto quando si hanno delle armi in mano non bastano i valori umani c'è bisogno di guardare a un riferimento assoluto quel riferimento assoluto che oggi viene demolito a colpi di piccone dal mondo come sempre è stato e che è quella luce che è il discernimento tra il bene e il male oggi chi è che decide cosa è bene e cosa è male Aldo lo aveva chiaro e questa è la parola di Dio per lei personalmente chiamarsi Aldo Gastardi di che responsabilità in qualche modo la investe anche qua mi sorrido perché io ho avuto un periodo nell'adolescenza in cui questo questo nome questo continuo paragone anche non voluto che mi stava veramente pesante stretto e crescendo ma solo più tardi mi sono reso conto che quella quell'esempio silenzioso probabilmente mi stava anche aiutando a guardare la vita in un modo diverso a guardare la vita con uno sguardo che ti permette anche di di capire ecco quello sguardo della provvidenza quello sguardo che ti permette di guardare in alto e di capire che ci sono cose grandi che qualcuno le ha fatte ecco che messaggio lascia oggi ai giovani una figura storica come quella di Aldo Gastardi Bisagno allora io penso che Aldo inviti i giovani a guardare in alto a guardare a non fermarsi a quello che il mondo gli sta offrendo ma a guardare veramente a qualcuno che può guidare e fare della loro vita un capolavoro noi non siamo qui a proporre un mito Aldo non è un mito il nostro mondo sta canonizzando la mediocrità proprio per la paura delle vette a cui qualunque testimone della fede ci chiama Aldo io credo che lascia ai giovani un messaggio dirompente la verità non necessita il consenso e non è fatta dalle maggioranze oggi ci viene inculcato che tutto deve essere fatto da maggioranze tutto deve essere fatto a misura di richieste umane non è così il pensiero di Dio non è così quello la testimonianza di Aldo e credo che lui inviti i giovani a prendere una decisione una responsabilmente una decisione ma alla luce della loro specifica chiamata alla luce di una testimonianza alla luce diciamo di quello che è il loro posto nel mondo ognuno chiaramente secondo quello che è chiamato a fare il 22 gennaio di 100 anni fa nasceva a Trento Chiara Lubic fondatrice del movimento dei focolari il suo messaggio e la spiritualità sono stati occasione di incontro per centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo in questi anni celebrare per incontrare è il titolo che gli aderenti al movimento dei focolari hanno voluto dare appunto alle celebrazioni in suo onore in occasione del centenario dalla nascita noi invece vogliamo proporvi un'intervista che abbiamo realizzato qualche anno fa se mi dà la pace tu verrai che la tua speranza vivrà spire tra le mani piangerà ma un mondo nuovo nascerà si nascerà il mondo della pace qual è lo scopo dei media oggi? lo scopo dei media è uno scopo veramente di oggi proprio di oggi è l'unità portare l'unità fra le persone e creare la comunità nella nostra vita umana ecco lei parlava di spiritualità non solo individuale ma collettiva si è una spiritualità che era stata prevista da dei teologi come runner e anche da papà Paolo il quale ha detto che adesso verranno delle spiritualità per così dire di popolo collettive che non è che sostituiscono quelli individuali che continueranno ad esserci come ci sono sempre state però che sono un pochino più adatte al tempo ecco perché secondo lei oggi la chiesa e anche i movimenti si interessano di più ai mezzi di comunicazione ma semplicemente perché sia la chiesa sia i movimenti sono ispirati dallo spirito santo di oggi ecco diceva che i primi cristiani non avevano i mezzi di comunicazione ma avevano il cuore certo certo non è mica che noi possiamo appoggiarsi adesso sui mezzi perché ci sono i mezzi dobbiamo sempre partire dal cuore dal nostro contributo personale poi anche i mezzi moltiplicano il bene ecco utili affascinanti da un lato ma anche con tante ombre sì certo affascinanti perché appunto aiutano a questa socializzazione di tutto il mondo una vera globalizzazione altrimenti se non si fa così se non si usano come devono essere usati rimangono i difetti che hanno adesso tante volte ecco comunicare è una vocazione è una vocazione per noi per esempio che siamo del movimento dell'unità che siamo ispirati da un carisma che porta l'unione l'unità dappertutto la comunità che crea la comunione ecco è una vocazione assolutamente bisogna comunicare se è vero che bisogna amare il prossimo come se stessi come se stessi è vocazione del cristiano comunicare ecco possiamo trovare tutte le risposte in Gesù assolutamente assolutamente lui è uomo e lui è Dio ha tutte le risposte umane e tutte le risposte anche per la nostra vita spirituale e divina come figli di Dio umane alle volte non sembrano perché sembra che il Vangelo non risolva tutto mentre invece in radice ha già la risposta poi siamo noi uomini che viviamo Cristo dobbiamo rivivere Cristo che dobbiamo attuare a realizzare queste cose sottolineare il positivo perché si costruisce meglio partendo da un momento positivo certo perché io ho fatto l'esempio di Gesù croce fisso e abbandonato è proprio lui il comunicatore che a un dato momento non comunica più col padre ecco perché è il massimo della sua donazione perciò e lui però si dice di lui che così dicono i teologi che in quel momento ha generato per questo dolore immenso l'umanità quasi con un parto divino e l'ha fatto ha fatto figli di Dio ecco chi vuole veramente avere dar senso alla propria comunicazione far sì che sia anche efficace bisogna rifarsi a lui vorrei dire a lui come madre perché una madre vede sempre un pochino più in là sa sperare tutto sa capire tutto sa coprire anche tutto anche se vede anche il negativo ma non lo mette in rilievo mette in rilievo il positivo perché ama che cosa possiamo dire a tutti gli operatori che lavorano nel mondo non solo per lavoro ma anche per passione nel mondo della comunicazione io direi mettete alla base della vostra vita l'amore e poi siete comunicatori se voi amate veramente le persone che stanno di fronte che vedranno le vostre non so il cinema i film la televisione che voi producete e se le amate veramente verranno fuori dei pezzi delle comunicazioni meravigliose ecco in conclusione qual è il mezzo di comunicazione più importante del movimento per noi sono tutti importanti ma io credo la nostra vita la nostra vita che comunica con gli altri questo cristianesimo è sempre stato Gesù non aveva allora neanche San Paolo questi mezzi di comunicazione però amava e hanno fatto quello che ha fatto anche i primi cristiani come ho accennato che erano ieri dice Tertuliano e hanno invaso il mondo in conclusione cosa possiamo dire ai giovani che accendono per le prime volte tipo una tv beh siete fortunati perché vivete in questo tempo in cui esiste veramente esistono questi mezzi così importanti che possono diffondere il bene che se un bicchier d'acqua dato a un povero a un assetato per amore di Cristo avrà la ricompensa cosa saranno migliaia e migliaia e migliaia di bicchieri d'acqua perché così fanno i mezzi di comunicazione che moltiplicano il bene cosa saranno cosa riceverete voi in questa e nell'altra vita a un povero di ricche di ricche e di bravo a un povero americano o no why the vision of your world feel the love that brings in everything now is your chance to start again si nascerà il mondo della pace di guerra non si parlerà mai più domenica mattina alle 11 nella chiesa di camminata ne sarà celebrata la santa messa e fin qui nulla di strano non fosse che a partire da domenica la chiesa per un po' di tempo resterà chiusa perché inizieranno alcuni interventi di restauro molto urgenti che riguarderanno tra l'altro anche il pavimento dunque la chiesa dovrà restare chiusa per un certo periodo di tempo proprio per consentire i lavori e dunque alla celebrazione della messa di domenica prossima tutti sono invitati a partecipare in spirito ovviamente di fraternità terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiesa al nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana